amici salve a tutti e ben ritrovati come dico sempre nel mio nel mio piccolo laboratorio benvenuti allora facciamo il punto della situazione nel senso che dopo aver visto l'unboxing dopo aver visto l'assemblaggio praticamente porzioni diciamo aggiornamenti di assemblaggio di questa meravigliosa macchina perché a dir mio come di primo acchito così non conoscendola è una roba incredibile vediamola un attimo da vicino ragazzi anzi aspettate che intanto prima di aprire voglio farvi notare il silenzio assoluto ora sta facendo un riempimento in stile giroide stiamo costruendo un upgrade e porca miseria ci sono le luci che lo fanno vedere male è una scatola multicolore che servirà per contenere poi lo vedremo insieme il progetto e non è il momento di parlarne ora ma devo qui è tutto montato provvisorio un upgrade per il buffer del appunto per la funzionalità dell'ammu ma qui era solo tanto per farvi capire intanto sto sto lavorando con una bobina da due chili di ptg prusamente riciclato quindi tanta roba ragazzi la qualità di stampa è la qualità di stampa è adesso la vedete in fase di di prima copertura del riempimento ed è una roba stratosferica qui ha fatto i due test se vedete l'arancione e il nero sono i due test di partenza per settare appunto prima che parta la stampa le due teste l'arancione praticamente eccola in stand by e adesso quando cambierà il colore andrà a prendersi la testa quando 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 ne ha bisogno insomma ecco ma questo è il rumore adesso probabilmente è infantizzato dal dal microfono ma credetemi ragazzi c'è il nulla come rumore all'interno una volta chiuse le porte il nulla ed è tanta roba ne parleremo più approfonditamente più avanti naturalmente perché adesso sono tutti anche questo lavoro del del questo upgrade che sto che sto creando dell'MMU sono tutti test diciamo ecco naturalmente qui è montato il il bobinone da due chili e praticamente i porta bobina sono telescopici escono per caricare anche le bobine da due chili mentre sotto agganciato al secondo alla seconda testa c'è il mio contenitore il mio progetto insomma di 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 per 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 l'umidità ok allora io non volevo giustamente entrare nell'ambito della stampa 3d in questo istante perché diciamo che questo è abbiamo fatto un ragionamento su un ragionamento allora però è un ragionamento che calza sull'altro ragionamento ma è tutto un ragionamento qua vedete cosa sto facendo io io sto chiudendo la porta inferiore ho chiuso la porta superiore e ho già nominato nel video precedente appunto della fase di di aggiornamento montaggio ragazzi non riesco a mandare giusti due montanti non c'è niente da fare quando si crea un qualcosa che funziona questo se non ci fosse una stampante così all'interno e servisse per un altro scopo allora due ante così andrebbero benissimo però il fatto di aver fatto l'apertura a scivolo a nascondere auto rientrante e un'apertura a rialza appunto per avere la bocca di 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 operativa al cento per cento mi fa pensare che comunque sia in anticipo io ho cominciato a fare i telai alla regola dell'arte cioè telaio classico vetro giunzione addomino e via dicendo ora come ora vedendo sta meraviglia all'interno non posso nasconderla perché è una parte nascosta il mio ragionamento era partito che essendo una core x y cioè vuol dire che estrusore lavora sempre in piano e cala il piatto a differenza delle cartesiane io così io la macchina la vedo lavorare vedo tutto il suo movimento e quant'altro però c'è obiettivamente parlando bisogna bisogna dar a cesare quel che di cesare e questi due montanti devono sparire quindi l'impresa ardua che io mi sto mi sto volevo spiegarvi e mi sto proponendo è questa eccola qua le due porte sono queste qua ho recuperato da un vecchio pavimento smontato da un pavimento che andava all'esterno a ribordare una piscina quindi riciclato un larice legno di larice abbastanza nodoso anche però è un peso specifico molto 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 tosto è un legno molto compatto quindi non dovrei avere grossi problemi a come dire a fresare per i vetri in sostanza eccolo qua questa è la porta inferiore dobbiamo mantenere l'inclinazione per forza di cose perché sennò non ci sarebbe più il l'auto rientrante il giro di rientro e questa è la porta superiore ora noi andremo a fresare gli interni come abbiamo fatto quei telai la stessa identica situazione a differenza però che dobbiamo fare gli incastri leggermente più profondi non 8 mm ma andremo a 10 12 mm perché il montante centrale non ci sarà quindi avremo il telaio fatto da tre cornici e il montante centrale eliminato quindi avremo i due vetri che arrivano nella parte a combaciare la chiusura nudi con i 2 mm 3 d'aria come ci sono anche tra le due porte adesso che sono anche di più non le ho neanche più di tanto regolate perché ho detto tanto le devo rifare questo non vuol dire che quelle due porte li vanno buttate perché mi sono riuscite bene e quindi ho intenzione magari in un futuro prossimo di accingermi a qualche altro progettino che possa sfruttare sia i telai interi così come sono perché se il telaio è fatto così è mica detto che non si possa adattare un mobile al telaio perché adattare il telaio al mobile è più difficile che c'è il vetro a misura ma si può creare il mobile al telaio quindi andremo di levigatura andremo di andremo di levigatura andremo di innesti domino sempre lo stesso concetto uguale identico a quello fresature interne per alloggiare i vetri e una volta effettuata questa operazione andremo ad ordinare altri due vetri lo so è già è già finito così però ragazzi non non va esteticamente non va comodo comodo e comodo solido e solido possiamo dire tutto quel che vogliamo sotto quell'aspetto lì però un gioiello del genere non si può nascondere assolutamente in alternativa avrei fatto un cassone cieco che lo vedo solo io chi se ne frega però lo scopo era quello quindi come ho detto prima è giusto dare al Cesare quel che è di Cesare è giusto dare alla XL la giusta visibilità allora dove siamo rimasti perché è passato un po' di tempo tra una tranche e l'altra del video non è che li giro tutti in un momento unico no li giro quando tempo e se mi vedete oggi molto calmo con i movimenti è perché ragazzi a volte questa qua che è la padrona di casa la nostra schiena nel mio caso la mia schiena sta soffrendo allora che cosa ho combinato sto giro a prescindere che andiamo ad aggiornare il discorso che abbiamo fatto precedentemente e se io vado un attimo a girare la camera andiamo a vedere eccoli qua ora noi abbiamo praticamente ricostruito i due vetri sono arrivati ricostruito il frontale che va montato esattamente dove ci sono quelle due ante lì solo che ce la giochiamo in questo modo cioè i due vetri vedete la fugatura d'aria che arrivano nudi adesso io ho fatto un assemblaggio come dire a secco per controllare appunto che gli incastri essendo stati fatti più profondi siamo a 12 mm di incasso perché sono stati fatti più profondi perché prima c'era il montante centrale quindi bastava che il vetro rimanesse bloccato all'interno del telaio tutto unito ora essendo solo tre cornici il 12 mm di aumento di profondità mi serve per avere una planarità più sicura per le cornici laterali poi vedremo anche l'assemblaggio di per quanto riguarda l'assemblaggio l'incollaggio del telaio che andrà andrà lo lo vedremo dopo nel frattempo mi sono accinto a costruire due maniglie un po particolari allora qui all'interno che non vi avevo aggiornato precedentemente per mantenere chiusa la porta inferiore adesso noi facciamo una simulazione su queste porte poi il tutto viene riproposto su quelle abbiamo incassato due magneti da 10 mm per 2 mm di profondità di spessore e ho costruito sempre con nostro giro l'ho fatto con mi sembra con la marca 4 o con la mini non mi ricordo due supporti fatti ad elle che portano i due doppio magnete quindi in quando io vado in chiusura eccola la e abbiamo risolto la cosa inferiore che poi per aprirla una volta aperta la prima si prende con le mani la seconda dai due montanti laterali e andrò a costruire anche due pseudo manigliette piccoline che andranno montate in testa dei due montanti perché poi qui avremo il vetro dove io mi mi aiuterò a farla partire ora la prendo dall'interno però le ditate sui vetri sono una rottura di maroni quindi dobbiamo cercare di preservare anche la pulizia in questo contesto perché perché io metto sempre alla merced i video di quello che faccio ripeto se avessi fatto una cosa per me solamente e non andassi in rete avrei fatto un bussolotto chiuso e chiusi i discorsi quindi cerco di avere una cosa pratica e anche unire l'estetica come di solito se siete vi ho credo abituato a vedere quindi i due supporti con la doppia calamita per la chiusura superiore dell'anta inferiore per la superiore che ora è facile gestirla finché quella è aperta qui una volta che sono chiuse come faccio ad andare a prenderla ora la prendo con le punte delle dita sul montante ma non è la sua strada allora facciamo così vediamo che cosa ne è uscito togliamo il piatto e ho costruito questa cosa qua non è altro che una maniglia e adesso andiamo a staccarla insieme uno poi rieghiamo un po' il piatto eccolo la lo scarto che è praticamente vorrei pesarlo ma stiamo parlando di una di una cosa così talmente infima il piatto lo rifugiamo sempre attenti alle dita e andiamo a vedere che cosa mi sono inventato allora questo questa è la parte superiore la parte che sarà apribile se osservate ci sono anche due sporgenze con di un millimetro con un foro passante da due millimetri questa sarebbe quella che io chiamo veramente la maniglia proviamo ad andare non è che sia proprio la sua strada farlo con le unghie allora con un po' di pazienza andiamo a muovere eccolo là il supporto che poi andrà pulito per bene il supporto ci sono dei piccoli frammenti perché questo perché naturalmente io ho stampato pietigì su pietigì c'è nel senso l'arancione e pietigì il l'antracite poi la puliamo per bene ci sono un paio di frammenti però come vedete si presenta così qui abbiamo uno un gradino posteriore qui abbiamo l'innesto a bascula e qui abbiamo qui ho fatto una specie di 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 fossa conica che sarebbe un po' diciamo il discorso prensile per per il dito e questa è la maniglia vera e propria mentre per il suo contenitore abbiamo praticamente un ho creato una vaschetta osservando naturalmente la lunghezza non è importante basta che sia diciamo proporzionata a quel che è un discorso estetico per quanto riguarda la larghezza ho scelto la larghezza 20 mm perché perché io ho già la forstner da 20 mm dove poi nel legno quindi nel montante dell'anta andremo a fare un foro da 20 un foro da 20 e con la frecciatrice andremo ad unire i punti come dico sempre come nell'enigmistica senti che bravo che che ho imparato a dirlo di primo acchito allora prendiamo un cacciaritino e andiamo a scavare un attimo quel che è perché questo è un riempitivo vedete che è tutto si spacca tutto morbido eccolo naturalmente anche qui ho fatto un errore perché posso ho fatto ho dato riempimento cioè non riempimento il supporto l'ho dato con entrambe le teste con entrambi i colori potevo dare il riempimento anche solo con l'antracite e poi l'arancione mi faceva solo le parti arancioni non ho fatto appunto la distinzione tra le due cose che è una è una una distinzione che si fa nel momento che si crea il progetto sullo slicer quindi sul programma che prepara poi il manufatto perché la macchina lo possa leggere tante cose come vi dico come ho già detto anche in passato le sto imparando e le sto imparando un po alla volta quindi se vedete delle cose anche per chi è già come dire esperto in questo non me ne volete ragazzi io cerco di fare i miei video così come dire in piena naturalezza e in piena ignoranza anche in determinati casi perché così come dire il mio il mio obiettivo è quello sì di mettere a conoscenza delle persone che mi seguono o di chi mi seguirà non lo so che cosa offre il mercato ok e parlo in questo di questo brand in questo frangente però nello stesso tempo non essendo un professore cioè uno che che ne sa una pagina più del libro in questo contesto voglio trasmettere a tutti quanti voi a chi mi segue il solito detto se ci riesco io ci può riuscire chiunque quindi non abbiate timore di lanciarvi eh aspettate che sto terminando l'estrazione eccola lì l'estrazione dei supporti se avessi fatto come stavo dicendo prima cioè se avessi avuto un'altra testa in questo caso avrei messo su una testa avrei fatto avrei caricato un PLA per fare è una testa che genera solo i supporti perché il supporto in PLA su base stampa madre PETG quindi quello che va buttato via in questo contesto fosse PLA si toglierebbe come togliere la carta da un cioccolatino cioè è molto più semplice estrarre i supporti PLA dal PETG come stampa madre però non avendo la terza testa e avendo bisogno di fare due due come dire colori comunque allora il il fusto è questo ora noi abbiamo fatto il fusto ha una specie di gradino interno la ribordatura con uno spigolo inclinato che l'ho fatta arancione personalizzata ora se non ho sbagliato i conti questa è la maniglia questo è il fusto d'incasso noi andiamo a prendere un perno da 2 mm che adesso avrà no no passa anche comodo un perno in acciaio da 2 mm so neanche da dove da dove l'ho recuperato lo puntiamo praticamente senza uscire nella parte centrale entriamo con la maniglia adesso è bello andare a beccare il boost entriamo allora forse facciamo prima ad allinearlo con gli occhi che vedono no entro qui lo va spostato un pochino più in qua e possiamo anche aiutarci mi piace farlo in diretta perché è una cosa vedete no ho tolto dalla stampa ho tolto i supporti e lo sto facendo insieme a voi tanto per farvi capire che non è che ci sia un posto produzione dove magari c'erano dei difetti delle cose questo non vuole entrare permettete un attimo perché se me la gioco se me la gioco in tempo reale senza vedere interruzioni video mi piace che la gente capisca esattamente quando io faccio le cose se alla luce del giorno senza nascondere nulla eccolo il perno è passato poi il perno diligentemente andrà tagliato quindi tenuto a filo da questo lato ok e qui andremo a rasarlo perciò l'altra porzione che mi resta faremo l'altra maniglia ora come ora quello che si presenta è questo e che cos'è è un impianto che noi andremo a creare sul montante come in questo caso ve lo faccio vedere proprio in questo contesto immaginate che adesso ci sia il telaio quello con il vetro nudo andremo a montarne una in questa posizione e una in questa posizione per far sì che io abbia la possibilità di aprire con comodità quella sotto abbiamo visto prima che prendendola dai montanti una volta aperta la superiore lei entra mentre la superiore quando sono chiuse tutte e due se io vado a schiacciare ora la parte superiore praticamente si apre una maniglia dove io all'interno con il dito posso andare a far leva e ho creato una maniglia di apertura ma che quando la chiudo lei mi rimane a zero mantengo un'estetica carina e anche personalizzata nel mio contesto e ho creato una maniglia incasso eccola la forse diciamo che avrei potuto fare l'asse vedete che si apre solo fino a questa posizione cioè non si apre a me sarebbe anche sufficiente perché voglio dire dal momento in cui diventa prensile che il dito passa sotto eccola adesso si deve anche un attimo come dire adattare la plastica del fusto alla maniglia si deve un attimo adattare però il concetto funziona a meraviglia potrei spostare l'asse del perno leggermente più avanti ecco che allora la bascula va praticamente all'interno e questa si aprirebbe quasi del tutto cioè quasi non dico a 90 gradi ma molto più comoda però già così diciamo comunque è modificabile senza nessun problema ma abbiamo costruito una maniglia ad incasso e mi sembra anche se andiamo ad analizzare la qualità di stampa io direi che non ci si possa proprio dire nulla considerando che io lavoro prevalentemente con adesso non guardate questo angolino qua che l'ho smussato leggermente io con il cacciavite per togliere i supporti per fare una cosa fatta abbastanza veloce e mostrarvela diciamo che lavorando con i profili di stampa originali di prusa quindi non modificando assolutamente nulla questo è il risultato e due maniglie più o meno due ore velocità 100 quindi non sono andato a 200 a 300 come ad una gara l'ho messa sotto ieri sera alle 11 e a luna mi ha finito la stampa stamattina era bello cotto che mangiato questo è tutto andiamo a prepararci per l'assemblaggio delle porte però prima ci sono delle lavorazioni da fare e in questo contesto le lavorazioni saranno quindi prima di assemblare le tre cornici per ogni porta andremo a creare al trapano a colonna gli scodellini per le cianiere superiori ok e andremo a creare visto che i montanti non sono incollati sono ancora liberi di essere smontati le due fresature appunto per quel che vi ho spiegato ora cioè per le due maniglie che andranno incassate in questo contesto una volta fatto questo poi le lavorazioni non ce ne saranno più a livello di fresature e incassi perché i supporti a carrello dell'ante inferiore sono a sormonto cioè vanno avvitati in appoggio e quindi non ci sono più grosse lavorazioni da fare e allora si potrà fare il cambio tra questa soluzione e quella naturalmente una volta che io adesso andrò a mettere in colla i vetri e i telai dovremo lasciarli a riposare perché la colla abbia dobbiamo creare una cosa sicura perché sia i mondi le cornici laterali e rispetto al vetro sia il vetro con il suo peso bisogna che sia una cosa ecco perché ho detto in presa ardua deve essere incollato alla regola dell'arte con i tempi tecnici giusti di asciugatura perché non si deve muovere nel telaio cornice né si deve muovere il vetro se no diventa una ghigliottina e magari è pericoloso quindi cose fatte con calma fatte bene però alla regola dell'arte anche se stiamo parlando solo di hobbistica ragazzi allora mi viene da ridere perché me lo immaginavo e in questo contesto c'è stato più culo che anima se noi osserviamo la foratura degli scodellini guardate dove arriva vedete che sfocio all'interno dell'incastro cosa succede succede che io devo modificare la cerniera perché il metallo sapevo che comunque nella prima stratificazione ci sta ma non ci stava la culata ammortizzatore e allora basta tagliare leggermente la plastica del rivestimento dei due freni e tagliare leggermente la plastica nera che c'è all'interno della culata in plastica senza esagerare però perché se vanno fuori le due bacchette dei pistoni praticamente questo non frena più perché in sostanza questa cerniera è frenante appunto per frenare la parte di rallentamento in chiusura quindi in questo contesto come dire più culo che anima allora prepariamoci per l'incollaggio allora in primis la prima cosa da fare in questo contesto allora io utilizzo una pasta che è una pasta è una pasta in silicone che praticamente ha reticolazione neutra ed è un porca di quella porca di quella porca non mi ricordo mai come si chiama va bene dopo quando mi viene in mente ve lo dico praticamente non si utilizza mai se si vuole avere accuratezza nella posa dei siliconi o delle paste in tubo così non si silicona mai con il beccuccio intero allora si va a spuntare leggermente in diagonale e la parte diagonale la si tiene appoggiata diciamo cioè la parte tagliata in diagonale va in la parte minore va appoggiata al pezzo che si va ad incollare in modo tale che quando il flusso esce rimane appoggiato al pezzo provate ad utilizzare un beccuccio senza il taglio e fare una riga e vedrete che il silicone che state estrudendo a volte si tira su si fa la ricciatura e quando si deve fare una posa di colla o di silicone senza sporcare la prima cosa che io vi consiglio di fare montando bagni anche e montando box doce anche dove dove la perfezione è assoluta perché poi si deve una volta mascherato pulire accuratamente e tenere il beccuccio sempre in in forma e diagonale se dopo vari varie pose il beccuccio in in trascinamento dovesse praticamente usurarsi rifate di qualche millimetro il taglio poi quando si arriva che è troppo grosso sapete che il flusso esce più grosso e quindi non va bene ora noi che cosa faremo noi avremo noi abbiamo dato una pulita il vetro e abbiamo pronti i listelli questo è la parte esterna perché sappiamo che abbiamo fatto le fresature per le per le maniglie che ho nominato prima e la parte interna naturalmente dove abbiamo i gli impianti degli scodellini delle cerniere ora come ora sappiamo che questo è l'esterno se noi dobbiamo questo è l'esterno noi dobbiamo infilare il vetro se noi diamo la pasta sulla costa interna ok rischiamo che quando il vetro entra faccia fluire il silicone in esubero sul bordo interno quindi noi rischiamo di vederlo quando poi è in opera se c'è qualche ondulazione di flusso che è troppo è troppo gagliarda diciamo abbondante ok rischiamo di vederla quindi noi il micro rigo di pasta lo facciamo sulla costa esterna in modo tale che il vetro quando entra fa fluire la pasta esternamente e sopra ma non farà mai il giro del vetro in modo tale da creare un difetto che noi vediamo dall'esterno quindi pasta pronta quello che è importante eccola lì è importante che sia caricata bene la pistola in modo tale da non avere punti d'aria cioè il grilletto il cane deve essere sempre in tiro pronto ora partiamo e vediamo che cosa ne esce eccolo lì deve essere un rigo costante pensate che quando io poso il silicone a volte in fase di posa trattengo pure il fiato il rigo deve essere perfettamente costante vedete che non c'è arricciatura non c'è cioè lui va giù come flusso perfetto ora partiamo dritto rovescio meglio partire rovesci perché abbiamo i barilotti e partiamo a montare la cornice superiore considerando che dobbiamo mantenere il vetro più o meno alla stessa distanza di centratura poi ci pensano i perni ora adesso non ve lo mostro perché giustamente sono in fase di incollaggio non c'è la fretta qui come se ci se fosse se stessimo incollando con il bostic o con la colla vinilica ecco perché silicone ha dei tempi tecnici diciamo un po più lunghi ora noi sappiamo che questo va di qua no scusate questo va di qua perché abbiamo gli scodellini interni ma le maniglie sono esterne luca te le sei guardati 25 volte prima di cominciare a girare il video non farai mica la la maccaccata adesso no allora esterno flusso costante eccolo la e in questo contesto andremo a sporcare un po anche attorno a quel che è il perno in modo tale che poi la pasta quando asciuga mi tiene in linea anche mi tiene in linea anche diciamo la giunzione tra le cornici fermo restando che abbiamo un incastro da 12 mm quindi sarà il vetro che avrà la maggior il maggior compito di come dire raddrizzare il tutto allora entriamo fino in fondo in consideriamo il fatto ok prima di tirare questo prepariamo l'altro consideriamo il fatto che io ho dato mezzo millimetro in totale d'aria cioè meglio avere mezzo millimetro in più di incastro che mezzo millimetro in più di vetro perché sennò le giunzioni non riusciremo a chiuderle per lo stesso motivo anche un po di spazio per il silicone perché quando il massello entra nel vetro il silicone lo trascina anche sul bordo di testa perciò allora luca non fare la maccaccata ok così all'esterno e ci siamo eccolo la non so perché ma a me è sempre piaciuto lavorare con il silicone e nei cantieri i colleghi quando è ora di siliconare incollare fugare rifinire spariscono tutti allora adesso allineiamo i masselli perché sapete vi ho già spiegato che praticamente i perni hanno un po di gioco appositamente andiamo a prendere i due grani con con il cacciavite andiamo a stringere ora cominciamo a stringere le giunzioni e vediamo che comincia a fuoriuscire sapete che qui per spiegarvi la cosa non ho neanche messo la pasta nella giunzione ma è poco importante allora sono tutte diciamo piccolezze che io vi spiego per fare il lavoro alla regola dell'arte considerando il fatto che una volta che il vetro ha preso si è asciugata la pasta diciamo sia sul montante sia sull'orizzontale sopra voglio sfidare chiunque a toglierlo cioè bisogna romperlo ora la cosa fondamentale è aver preparato un listello che praticamente vedete ha praticamente due decimi d'aria che è uguale alla larghezza inferiore e noi andremo a posizionarlo in modo tale che allora innanzitutto dobbiamo preoccuparci che il vetro sia bello a filo dei montanti qui siamo dentro e qui siamo dentro perfetto la cosa fondamentale diventa ora prendiamo una squadra di misurazione andiamo a posizionarla all'interno del montante e io qui già vedo che siamo fuori quindi vuol dire che questo va chiuso e se c'è un po' di misura diversa va aperto questo quindi lo apriamo leggermente e facciamo entrare il listello il listello è più o meno la stessa misura della luce qui sopra quindi noi ora in teoria dovremo avere lo stesso angolo qui ce n'è un pelino di più ma potrebbe essere anche un po' la poi vi spiego anche un altro trucco allora apriamo ancora un pelino qua e andiamo a chiudere un pelino questo allora bene qui abbiamo il dente di lasco che è uguale a sopra a filo siamo a filo in questo contesto la squadra qui è buona la squadra qui è buona si c'è un in punta proprio c'è un cappello dei miei ora per avere una conferma ancora più assoluta facciamo la diagonale la diagonale è quella che taglia la testa al toro qui siamo siamo mossi un pelino indietro e non va bene è perché i più precisi si è in questo contesto meglio il risultato viene alla fine va che roba che si muove perché c'è il silicone che lo fa che fa da slitta no ok qui è rimasto perfetto ok la diagonale ripeto è questa agganciare il metro e abbiamo 93.3 spaccato agganciamo il metro e abbiamo 93.2 quindi vuol dire che un pelino ci siamo mossi ricontrolliamo la squadra in effetti forse necessita di spostare il vetro sulla parte orizzontale allora noi andremo a dare un colpetto per far slittare il vetro in effetti adesso vedete che non entra più perché devo allargare un pelino questo eh ci vuole un attimo di pazienza ragazzi perché eccolo lì perché il gioco sta tutto qua eh il gioco poi sta tutto qua allora controlliamo anche le larghezze 79.4 abbondante 79.4 secco perché se osserviamo qui non c'è l'asco allora ripetiamo la misurazione di squadra lo so che è stressante star lì a vedere un pirla che continua a spostarsi con le misure però vedrete alla fine della fiera il perché ne è valsa la pena ok poi vi mostro questo l'altro mi arrangio eh era tanto per farvene capire uno 93.3 scarso 93.3 scarso pensando che tutto questo ambaradan l'ho fatto con il banco sega tutto manuale cioè non c'è pialla macchinari di ossake mastodontici è solo questione di precisione lasciamo lì a dormire vedete che io vorrei anche mostrarvelo però adesso è difficile che comunque sia se c'è una slabratura di di pasta che lavora sul bordo è io la vedo adesso perché perché la vedo perché io sono è come se fossi all'interno dell'inclusur ma dall'esterno io non vedrai nulla perciò lasciamoli così e intanto facciamo anche l'altro così perlomeno avete visto il primo montaggio una volta asciugata quella pasta lì ragazzi è polimerico ecco adesso mi è venuto reticolazione neutra però è un polimerico allora io potrei a sto punto dire che veramente siamo arrivati non alla frutta siamo arrivati al termine anche di questo progetto è stato un po' lunghino perdonatemi se è stato caricato in più parti ma d'altro canto non è che io questo qui dentro lo faccia per lavoro è un passatempo è un bel hobby e quindi ci metto il tempo che ci metto e dedico il tempo quando ce l'ho quindi andiamo a fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti abbiamo ho spostato l'asse delle maniglie quindi ho rifatto la stampa diciamo che il primo l'ho chiamato prototipo ora praticamente vedete che abbiamo una comodità estrema sia a sinistra che a destra potrei anche aver messo una calamitina all'interno che me la teneva chiusa ma a me non me ne può fregar di meno se anche rimane aperta quando è alta e fa un po' la sua porca figura naturalmente i due vetri hanno un millimetro d'aria ho lasciato il minimo sindacale come si suol dire perché giustamente quando si lavora il legno e altre cose qui dentro magari un po' polverose diciamo che meno polvere passa all'interno è meglio ho già constatato comunque che ho un buonissimo risultato per quanto riguarda scusate un attimo per quanto riguarda diciamo lavorare sia con il banco sega che anche a banco prevalentemente se devo lavorare levigatura e robe polverose lavoro dall'altra parte del banco però quando si lavora col banco sega un po' di polvere indietro viene però ho già riscontrato che è fatto bene è fatto bene lo devo dire non è guarnizionato nel senso che non è ermetico anche perché io ho visto che con stampe da 10-11 ore 12 ore anche non arrivo ai 30 gradi all'interno quindi la cubatura praticamente dell'enclosure è sufficiente per far girare comunque l'aria della macchina in maniera giusta in maniera normale per quanto riguarda se un giorno affronteremo delle stampe di materiali caricati o di materiali tecnici quindi può essere ASA, ABS, Nylon e quant'altro allora probabilmente e dico probabilmente se entreremo in quell'area lì eventualmente nel cielo sopra si potrà aprire un varco magari e tanto sapete presa tazza ci metto un attimo e magari installare una ventola per fare uscire per tenere raffreddato un po' l'ambiente perché quando si stampano materiali molto più tecnici del classico PLA o PETG come in questo caso le temperature salgono cioè la macchina deve lavorare in camera chiusa per un discorso di sicurezza anche nell'aspirare i fumi però ha bisogno anche di una miscela di temperatura all'interno che sia calibrata e allora eventualmente faremo dei test sempre se la cosa andrà in porto con dei materiali diversi faremo dei test temperature prove di stampa e quant'altro per il momento quello che interessava a me era concludere l'enclusur la macchina all'interno può stampare giorno e notte senza nessun problema e in effetti ho già un paio di stampe da buttare su diciamo che sono abbastanza lunghette ora naturalmente è tutto fermo perché giustamente ho terminato di montare le porte regolato tutto e naturalmente il risultato è lo stesso di prima sotto un determinato aspetto l'apertura a rialza l'apertura a ribassa quindi entriamo la cosa che cambia ora è che abbiamo le teste dritte e non più il massello frontale inclinato che fa lo stesso gioco delle porte inferiori perché giustamente non potevo fare la testa inclinata con il vetro che arriva a filo i vetri proprio sono rasati al massello quindi diciamo che il vetro lascia intravedere anche un po' il vano interno dove all'interno praticamente a parte ancora un sette etti di caramelle ci sono materiali di filamenti di scorta ancora chiusi e quant'altro insomma ecco l'area l'area di stampa ora è questa quest'area quest'area fino al cavedio sotto e mezza della vetrina sopra dove vedete già dei filamenti nei contenitori antiumidità pronti sempre all'uso che dire non c'è altro da dire ragazzi telecamera luci led porte porta naturalmente ovvio che ora la situazione è ben diversa qui pensavo di fare un paio di manigliette per tirarlo invece con la scusa che c'è l'inclinazione sotto i due massellini sono comodissimi da portare fuori perciò non ci metterò proprio nulla andiamo a fine corsa col carrello lui va al suo posto in battuta e noi con le maniglie ora abbiamo l'accesso diretto però nello stesso tempo le chiudiamo mi sembra che il risultato che volevamo che volevo ottenere rispetto alla precedente è ben diverso ora ora il gioiello si vede per intero cioè non c'è più quel doppio massello in legno naturale che giustamente per quanto ho fatto ben io l'abbia per quanto ho studiato ben io l'abbia meritava magari una mensola e due macchine interne di un altro tipo ma non una macchina unica con il discorso x core core x y cioè vedere appunto tutta quanto lo sviluppo del a parte la sua bellezza perché è figa è molto tecnica vedere anche la lavorazione che andava su e giù bene ragazzi allora come di consuetudine non mi resta altro che ringraziarvi per la vostra fiducia nel seguirmi ringraziarvi per la vostra pazienza soprattutto perché vedete io faccio passaggi lunghi non ho timelapse perché non mi piace velocizzare i video e cerco sempre di fare in modo che chi che chi mi segue e abbia intenzione di aggrapparsi a nozioni o a tecniche che magari molto semplici io impartisco e largisco più che altro mi dilungo sempre quindi di sicuro c'è a chi piace c'è chi mi scrive che dice anche se il video durasse un'ora in più mi prendo i pop corn mi prendo la coca cola faccio per dire e c'è chi ogni tanto mi bastona e dice sì caspita però ecco tutti contenti non si può fare tutti contenti non sarete mai però io ragazzi del mio ci metto tutto quel che posso poi lasciamo il verdetto a chi è più alto di noi e noi ci vediamo al prossimo progetto che il prossimo progetto sarà e l'avete visto che l'ho iniziato in stampa con la XL sarà sistemare tutto l'ambaradan di PTFE tutto quel groviglio di tubi che vedete messi un attimino un po' più in ordine e lo vedremo quel progettino lì lo vedremo nel dettaglio appunto il perché è stata costruita sta scatola e tutto quanto il resto insomma lo vedremo più avanti prossimamente e noi ci vediamo alla prossima avventura ricordatevi vi lascio i link inerenti al lavoro che ho fatto inerenti al brand che io seguo che io utilizzo per la stampa 3D e stiamo parlando di Prusa Reserves e dove in base ai vostri curiosità al visionare appunto questi prodotti e eventualmente ad acquistarli ma andate andate all'interno e vedrete un ecosistema completamente integrale non solo che parla di stampa o di stampanti o di filamenti ma è un ecosistema che parla molto molto in ampio su questo tema e quindi anche per acquisti se volete aiutare il mio canale a continuare a creare contenuti progetti anche file di stampa che posso elargire a chi richiede attraversate i link che io vi posto in descrizione a questo video come lo è in descrizione a tutti quanti i video che io vado a trattare il marchio Prusa e una piccola percentuale arriva nel canale e mi aiuta diciamo a continuare a rendervi partecipi per chi è interessato naturalmente a rendervi partecipi a questa mia realtà piccola realtà che ho creato alla prossima avventura adesso chiudo sul salio ciao amici